Sono Angelo Casa Il calzolaio lo faccio da 2.989 Perché mai fai il calzolaio? Perché ho visto che è la mia passione. È una cosa che mi piace farlo, aggiustare le scarpe perché le faccio andare quasi nuove. Quattro. Avanti! Ciao! Buongiorno. Vedi oggi c'è la giornalista? C'è la giornalista qui. Oggi ti mette sul giornale. Non c'è nessuno che sono improprio, non c'è nessuno che mi piace. Come a fare questa cosa. Buon anno, si fanno ancora un po' quando con calore, basta che è. Non si adoperano più, perché questi sono i nuovi. No, perché si lasciano dopo. Vabbè. Pronto frango. Ma che ne passa poi l'opera. Va bene, mi fa piacere sempre, se ce l'ho sempre. Anche espresso casale. Ehi, ciao Pier Giorgio, bene bene. Mia mamma anche aveva un po' la passione di aggiustare ogni tanto le scarpe. Le scarpe sono pronte? Sì. Eccolo, sono come sono. Sì, non lo vedo. Quanto le devo? 38. 38 frango. Ma non c'ho solo di fuori. Ebbè, la prossima volta. Oggi quanto ce le parlo, se vengo passato domani, magari. Vado bene. Ogniziest, non c'è, ma non c'è proprio una zonera. No, non c'è proprio un po' la mano. Vado bene. E' un po' la mano che si chiara. Non c'è proprio una zonera. È un po' la vita. E qual è la parte più bella di fare il calzolaio per te? E' una serie di scarpi che sono rovinate e diventano belle, quella è la soddisfazione. Grazie per la visione!